Ci saranno anche il rendiconto e il nuovo regolamento nel Consiglio Comunale di Teramo di domani? Sì, è un Consiglio Comunale molto impegnativo, molto lungo, che tra l'altro cade nella ricorrenza di un anno dalla vittoria alle elezioni del Sindaco d'Alberto. Abbiamo tanti punti. Il rendiconto, ossia un provvedimento di bilancio, sei mesi di attività del commissario e sei mesi, anche meno, di attività di questa amministrazione, quindi un fatto, come dire, ordinario, di presa d'atto in qualche modo al Consiglio Comunale. Importantissimo il nuovo regolamento, perché prevederebbe, tra le altre cose, i consiglieri delegati, che al Comune di Teramo ad oggi non ci sono. Sì, a seguito del nuovo statuto noi abbiamo il regolamento che vuol dire il funzionamento del Consiglio Comunale alla luce della nuova carta costituzionale del Comune di Teramo, che è lo statuto. Per esempio i consiglieri delegati, cioè dei mini-assessori, dei consiglieri che sul delegato del Sindaco si occuperanno di alcune questioni specifiche, che ne so, la discarica, il centro storico, ad hoc, insomma. Ma non solo. Per allargare la partecipazione, per migliorare la qualità della democrazia in questa città, verranno proposti anche il portavoce dei cittadini stranieri, che verrà invitato, quando la Presidenza del Consiglio lo riterrà opportuno, in base agli argomenti, a partecipare al Consiglio Comunale, come uditore e a dire la sua, ma anche il portavoce degli studenti universitari. Essendo Teramo una città vocata all'università, gli studenti universitari, ossia il Presidente della consulta degli studenti, potrà avere un ruolo nel Consiglio Comunale. Approda in Consiglio Comunale anche una mozione sulla Camera di Commercio. Per qualcuno la fusione tra Teramo e l'Aquila è cosa fatta? Sì, al di là di cosa pensano ovviamente le associazioni categoria, che sono le responsabili di questa vicenda, la città di Teramo, nella sua massima espressione istituzionale sul Consiglio Comunale, ha deciso di esprimersi. Tutti i capi gruppo hanno detto, dobbiamo presentare un documento dove diciamo che Teramo deve mantenere la sua autonomia dal punto di vista di questo importante ufficio. Quindi le istituzioni politiche della città si vogliono esprimere e è il primo punto all'ordine del giorno. Tra l'altro all'unanimità probabilmente verrà approvato questo ordine del giorno su un fatto non di secondo piano per quanto riguarda il presente e il futuro di Teramo e della sua provincia. Si insedierà anche una nuova commissione, la Commissione Sanità. Sì, è una commissione speciale, è una commissione, come sapete il Comune non si occupa di sanità, però il Sindaco è la massima autorità sanitaria nella città. Quindi il Consiglio Comunale ha ritenuto di istituire una commissione che tenga conto di tutte le problematiche della sanità per quanto riguarda le liste d'attesa, i diritti dei malati, il nuovo ospedale. Quindi voteremo l'insediamento della commissione, che sarà fatto i consiglieri comunali ovviamente, e il presidente di questa commissione, che avrà un potere, come dire, in qualche modo di indagine, di inchiesta ma anche di servizio alla cittadinanza per mettere in luce tanti problemi che i cittadini espongono e fare anche da tramite, tra la cittadinanza e le istituzioni sanitarie, la ASL e via dicendo. Quindi ci sembra importante anche questa come questione che porteremo all'approvazione del Consiglio del 27 giugno, quindi di domani.